Quali sono i deck più economici in circolazione nel TCG di One Piece? Che impatto avranno sul meta attuale? E saranno una valida arma per tutti i nuovi aspiranti re dei pirati che vogliono spiegare le vele alla volta del grande blu? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Si sa, per tutti coloro che navigano nel profondo oceano del TCG di One Piece, leader come Sakazuki, Enel, Katakuri, Luffy Viola e chi più ne ha più ne metta rappresentano i deck maggiormente performanti che, una volta iniziati a giocare, portano inevitabilmente risultato. Premesso e non concesso che un parziale positivo in torneo lo fa per il buon 70-80% l'abilità del giocatore e poi le carte nel mazzo, questi leader appena menzionati non solo sono i più forti nel meta attuale, ma anche i più costosi. Saka si aggira attorno ai 500 euro, Katakuri ed Enel giù di lì, Luffy Viola sui 3-400 euro e via andando sempre più a scendere. E sarà proprio nel video di oggi che approderemo, partendo dall'Olimpo dei deck con il rapporto qualità-costo più alto, sulla costa di quei mazzi che allo stesso tempo hanno un valore inferiore, ma possono dire la loro in un torneo organizzato anche di alto livello. Infatti vedremo assieme 5 leader che con le loro rispettive ciurme daranno del gran filo da torcere anche al grande ammiraglio della Marina e posso assicurarvi che, mentre gli farete mangiare la polvere, lo farete divertendovi. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i deck più economici, ma allo stesso tempo performanti, che potrete utilizzare nel TCG di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo con Oden Verde. Lo spadaccino avrà un deck che girerà tutto attorno al suo clan, alla tipologia di Akazaya 9 e al ripristino dei Don, per potenziare i propri attacchi e quelli dei character presenti sul terreno, o ancora salvaguardarsi da assalti nemici. In più con la sinergia che vedrà Kinemon entrare in combinazione con quasi tutto il deck, potrete sferrare offensive ripetute che metteranno in serie difficoltà chi vi giocherà contro. Il suo costo complessivo si aggira attorno ai 40-50 euro e consiglio di acquistare ogni singola carta inclusa in questa profile singolarmente, così da focalizzare al meglio i propri sforzi economici. Passiamo ora al Kid Verde, o come mi piace definirlo, il Picchiatore. La strategia di questa lista sarà semplice, offendere unicamente con il leader per due volte a turno, se possibile. Avendo a disposizione solamente 12 character che, all'occorrenza, potranno tornarvi utili sia come counter che per innescare i propri effetti trigger, questa lista ogni volta che riceverete danno vi permetterà di svolgere qualche azione, esaurire un personaggio o leader rivale, distruggere elementi presenti sul terreno o semplicemente incrementare la vostra potenza, quel che basta per salvaguardarvi da attacchi futuri. Insomma, provare per credere. Il braccio meccanico risulterà essere un vero e proprio incubo per il grande ammiraglio della Marina. Il suo costo complessivo si aggira attorno ai 25-35 euro, e anche qui, come per Oden, consiglio l'acquisto di carte singole per completare la profile. Nami è quel deck che seguirà delle regole tutte sue, infatti se terminerete le carte nel vostro mazzo, invece che uscire sconfitti dall'incontro, verrete dichiarati vincitori. La sua strategia risulterà semplice a primo impatto, ma gestire le numerose fonti di difesa che vi costringeranno a scartare una carta dalla mano non sarà un'impresa da poco, quindi utilizzate quanto più possibile questo leader per carpirne ogni segreto, garantendo alla strategia di gioco finale che attuerete di portare a termine in più fretta possibile la pila di carte che formerà il vostro deck. Il suo costo complessivo si aggira attorno ai 45-55 euro, e come per gli ultimi due leader consiglio l'acquisto di carte singole per far sì che la navigatrice inizi per l'appunto a navigare. Belo Betti di certo sarà un deck dall'alto tasso di aggressività. Grazie all'effetto del leader e al gran numero di caratter con abilità trigger, la bella rivoluzionaria vi permetterà di sperrare già dai primissimi turni degli attacchi pesantissimi, che chi vi giocherà contro faticherà a contrastare. Con l'ausilio anche di vivi, ogni personaggio con costo pari a 3 o superiore otterrà un pericolosissimo rush, che fornirà alla vostra strategia di gioco ancor più pesantezza. Il suo costo complessivo si aggira attorno ai 95-110 euro, quindi il prezzo si alza, ma tra le mani avrete un deck davvero ben strutturato e che, se giocato a dovere, vi farà ottenere molte più vittorie di quelle che vi aspettavate. Per recuperare le carte quindi, anche qui, vi consiglio di acquistare le singole, tenendo conto inoltre che alcuni elementi come Sanji Blocker e Cracker, ad esempio, potranno tornarvi utili anche per deck presenti in meta come Katakuri ed Enel. Infine abbiamo Huta Verde. La cantante ha fatto il suo debutto in questi ultimi giorni con il suo personale starter, l'undicesimo per la precisione, e avrà una schiera di character contratto film a portata di mano. Questo deck vedrà una delle sue strategie principali vertere sulla tipologia zoo, ovvero piazzare quanti più pezzi possibili sul terreno nel minor tempo possibile, per poi gestire la board nel migliore dei modi, fino ad avere una supremazia tale da schiacciare le difese rivali senza che ci sia una via di scampo per l'avversario. Il suo costo complessivo si aggira attorno ai 150-170 euro, se poi vorrete toglierci Kid ovviamente il prezzo calerà di circa 30 euro e al suo posto potrete integrarci altri personaggi film che si sposeranno alla perfezione con l'effetto del leader. In questo caso il consiglio sarà quello di acquistare uno starter per poi integrare singolarmente i pezzi mancanti che vi torneranno utili a completare la profile. Per quest'ultima lista volevo ringraziare Best per l'aiuto. In più volevo avvisarvi che la valutazione complessiva di ogni deck proposto in questo contenuto è stato calcolato prendendo in esame il primo prezzo italiano disponibile in listino sul sito Car Market. Una cosa c'è da premettere inoltre prima di concludere. I prezzi delle singole carte sono di molto aumentati negli ultimi tempi e quindi anche mazzi che all'apparenza non risultavano molto costosi da montare sono saliti a loro volta, ma con le ristampe che arriveranno a breve dei primissimi set potrete recuperare gli elementi più costosi anche di altri deck a prezzi molto più vantaggiosi. Non rimarrà soltanto che aspettare. Quindi forza aspiranti re dei pirati! Se eravate ancora indecisi sul da farsi, queste cinque soluzioni di sicuro vi potranno tornare utili per dare inizio alla vostra avventura solcando i mari. Vi basterà solamente scegliere uno dei leader proposti spiegando le vele diretti verso mete ancora sconosciute, dritti poi fino alla meta finale, il leggendario One Piece. E voi di quale capitano vestirete i panni? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.